Con Massimo Piacenti la presentazione della Fiorentina Basket, col Presidente, un primo giorno ufficiale a Firenze da Presidente importante, sabato si comincia, quali sono le sensazioni? Le sensazioni sono molto belle, ho visto una grande partecipazione, una grande attenzione alla presentazione della squadra, d'altronde le premesse per una stagione importante ci sono tutte. Innanzitutto siamo riusciti ad iscriverci al campionato di Serie B, abbiamo acquistato il titolo, quindi abbiamo fatto un investimento importante, partiamo con i piedi ben piantati per terra, puntiamo ad una salvezza onorevole, ma questo per noi è l'inizio di un cammino davvero importante perché Firenze non deve più essere teatro di fallimenti, innanzitutto societari e poi anche sportivi, ma anzi deve diventare una piazza che avrà la posizione che merita in Italia. Ha lanciato anche un appello per quanto riguarda il main sponsor, la società è aperta a nuove entrate che possono anche entrare sulla maglia della prima squadra, anche questo è un aspetto interessante? Assolutamente sì, questa è una società aperta, noi ci siamo riproposti di far ripartire il basket a livello nazionale in questa città, questa società è un patrimonio innanzitutto della città di Firenze, per cui siamo aperti, siamo disponibili e l'apporto delle forze economiche sarà determinante per poter anche rivedere i programmi verso l'alto, ovviamente. L'ultima cosa, salvezza quest'anno in tutti i modi, però anche detto che il prossimo anno ha salvezza mantenuta e a Serie B conservata, l'ambizione può essere diversa? Ma certamente, nelle attività sportive deve esserci sempre l'ambizione, noi partiamo con una buona squadra, con un buon gruppo, con un buon coach, e con uno staff di qualità. Le condizioni ci sono tutte, adesso vedremo come parte il campionato, hai detto già tu che siamo in un girone molto molto difficile, quello del nord, quindi la prova sarà davvero una prova del fuoco, ma quest'anno si costruiscono le premesse per far ripartire alla grande il basket a Firenze. Sabato Massimo Cacenti sarà a San Marcellino a vedere la partita a Padova? Sì, sarò presente, sarò presente per la prima partita.